Nel recupero valido per la ventesima giornata, il Pineto vince per 1-2 in rimonta sul campo di un ottimo Vasto Girardi. In vantaggio i patroni di casa nella prima frazione con Raucci. Nella ripresa il nuovo entrato Romano impatta il match. Minnozzi a 10 minuti dal termine mette la freccia del sorpasso. Calcio d'inizio per gli alto molisani. Dopo le prime fasi di studio i biancazzurri creano la prima occasione degna di nota. Fitta rete di passaggi tracciante di Mini Incleri ma Galeano non riesce a deviare a 2x2 con guerra rispondono i padroni di casa. Guida conclude dal limite con deviazione e la sfera finisce in corner. Il ritmo è elevato al quarto d'ora. Galeano tiro cross velenosissimo che non pesca per pochissimo in Incleri e trova un tuffo plastico del portiere alto molisano. L'undici di Prosperi prende le misure e passa al ventiduesimo bisturi di guida che pesca Raucci. Il centrocampista tutto solo non sbaglia e sblocca la contesa alla mezz'ora. Sempre i giallocelesti vanno vicinissimi al raddoppio. Serpentina di Mercai che elude Mercorelli ma incredibilmente la punta italo-arbanese si divora a porta vuota. Un gol già fatto. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra castellana preme Mercai. Altro dribbling funambolico in area. Assist per guida ma anche il numero 10 sciupa il 2-0. I ragazzi di Pobante non ci stanno. Minincleri pesca Mbuba in versione assist man. Lo scarico dell'attaccante belga non trova nessun compagno a porta spalancata. Nella ripresa il Pietro prova subito a pareggiare. Minincleri assist al bacio per Minnozzi ma il suo pallonetto viene smanacciato in corner da guerra. Sul ribaltamento di fronte Mercai nuovamente face to face con Mercorelli che rimane freddo e disinnesca. La squadra del presidente Brocco Caparbia non si arrende e impatta il match. Il neoentrato romano su corner sulla linea della porta non può proprio sbagliare. E trova la terza rete stagionale consecutiva. Gli abruzzesi ci credono e sfiorano il sorpasso. Minnozzi azione autarchica e conclusione dal limite che fa la barba al palo. Poco male per gli Adriatici e per il numero 17. A 10 dal termine Minincleri inventa un assist che trova sempre Minnozzi che elude tutte le marcature e confeziona un gioiellino che vale il 2-1 e la decima rete in campionato. Nel finale Pierpaolo inventa un pallone al bacio. Romano in spaccata non trova il tris. Non succede più nulla. Il Pineto vince in rimonta per 2-1 sul campo di un ottimo Vasto Girardi.